Si è svolto alla Multisala Badia Grande di Sciacca il convegno dedicato alla memoria di Calogero Amato Vetrano, figura di rilievo e grande ispiratore per la comunità locale. L'evento svoltosi nella suggestiva Sala degli Alberi ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo culturale e istituzionale, uniti nel ricordo e nella celebrazione del contributo inestimabile offerto da Amato Vetrano nel corso della sua vita. Il convegno ha offerto infatti momenti di riflessione e dibattito con interventi che hanno ripercorso la vita e le opere di Calogero Amato Vetrano, mettendone in luce il profondo impatto sulla società e la cultura del nostro territorio. Relatori di spicco hanno condiviso testimonianze personali e professionali, arricchendo il dibattito con aneddoti e riflessioni che ne hanno evidenziato la straordinaria umanità e il fervido impegno civile. A moderare l'incontro è stata la professoressa Maria Venezia. Al termine del convegno si è svolta poi la cerimonia di inaugurazione della targa in ceramica che denomina il giardino del complesso Badia Grande, dedicato proprio a Calogero Amato Vetrano. Le iniziative rientrano tra quelle programmate in occasione della messa in scena dello spettacolo Amato Vetrano, visionario gentiluomo promosso dalla Sipario IV di Sciacca con la regia di Salvatore Monte, che si terrà dal 25 al 28 luglio nel piazza Lantistante, l'ex istituto agrario in Contrada Marchesa.